Ciao bambine, ciao bambini! Oggi vi presento il libro L'Orto Arcovaleno di Nicoletta Costa, edito da Franco Cosimo Panini. Si tratta di un bellissimo libro illustrato che ci insegna tutte le verdure, la frutta con cui dobbiamo prendere confidenza, che dobbiamo mangiare, con cui dobbiamo, insomma, giocare, leggere. Qui trovate tantissimi frutti, tantissime verdure, parlanti direi, e ci sono tanti adesivi anche all'interno da appiccicare, tante cose da colorare. A chi non piacciono la frutta e le verdure? Insomma, la carota è di un arancione bellissimo, le ciliegie sembrano delle lucide biglie rosse fatte apposta per giocare, e la lattuga ricorda un fiore con tanti petali verdi. I loro colori allegri e variegati non sono solo belli, fanno anche bene. Entra nell'orto arcobaleno, impara a conoscere frutta e verdura in base al loro colore e scopri i loro superpoteri. Se volete saperne di più su frutta e verdura e su quello che vi porteranno come novità, giochi, colori e tantissime avventure, dovete leggere l'orto arcobaleno di Nicoletta Costa, edito da Franco Cosim Panini.